Bentornati a TG Degrado, il TG di sinistra che ogni volta cerca di essere un TG di sinistra ma per colpa del nostro snob alla fine il tema si va sempre a perdere in discorsi futili ma veniamo, ma noi ci proviamo invece oggi a rimanere di sinistra per tutto il TG con un tema anche semplice che è i ragazzi non leggono più i libri è vero Stracchini? Secondo te i ragazzi non leggono più i libri? Guarda Mussoletler, qui in Francia il fatto che i ragazzi non leggono più i libri è un grande problema basti pensare che la maggior parte dei ragazzi non sa nemmeno che Marco Mollica è uno scrittore Oh mio Dio ma è una cosa gravissima, ma secondo te questo è un problema o un grande problema? No, è solo un problema qui a Parigi, invece a Bordeaux è un grande problema Perché Stracchini? Perché a Bordeaux i ragazzi non sanno nemmeno chi sia Marco Mollica Oh mio Dio è terribile! Difatti noi giornalisti brizzolati di sinistra abbiamo fatto un ritrovo nelle isole dell'Hawai posto povero insomma proprio sul fatto che i giovani di Bordeaux Mollica non se lo cagano neanche di striscio E alla fine avete avuto una risposta? No, anche perché eravamo tutti in uno yacht durante un aperitivo e Mollica da ubriaco maccio è caduto sopra gli snack al caviale, ha sbattuto la testa ed è morto Oh mio Dio e quindi? E quindi è un grande problema, anche perché yacht e stanze d'albergo qui a Hawaii doveva pagarle lui e sarebbe bello avere un rimborso Posso domandarti una cosa? Giovedì Giovedì cosa Stracchini? Non volevi chiedermi quando saranno i funerali di Marco Mollica? No, volevo chiederti se verrete rimborsati Purtroppo non siamo stati imborsati perché è morto prima di prenotare le stanze ed è per questo che è un grande problema Bene, ma torniamo al nostro tema di oggi che era scivolare sugli snack al caviale No, non mi sembra molto di sinistra come tema Il tema di oggi era Mi scusi Il tema di oggi sono i ragazzi che non leggono più libri Ecco, ecco Grazie al nostro ospite di oggi che ci ha ricordato il tema I ragazzi non leggono più i libri L'ospite di oggi si chiama Stefano Caracciolo ed è un insegnante di materie umanistiche nelle scuole di Venezia Sì, beh, grazie a tutti Però guardi Me ne vergogno un pochino anch'io Perché le sembrava strano Ma nemmeno io so chi sia questo Marco Mollica Siamo in due Siamo in due Ah, nemmeno lei Belini Pensavo che almeno lei lo sapesse No, no, no È un trucco di noi giornalisti di sinistra Quando ti chiedono se conosci qualcuno Tu dici sempre sì Tanto dopo il discorso cambia E alla fine si dimentica tutto E noi giornalisti di sinistra di fatti Ce la caviamo così Vero Giovanna Boeri? Io lo faccio sempre Pensa che ieri ero a cena con amici in un ristorante di sushi E tutti parlavano di un certo Carlo Carpetti Ah, il grande Carpetti Ah, ma lo conosci? Veramente no Nemmeno io Difatti tutta la sera Che mi domandavo chi cazzo fosse questo Carpetti Avrò detto anche Magari prima o dopo cambieranno argomento E invece sono stati tutta la sera A parlare vita, morte, miracoli di questo Carpetti E come ne sei uscita? Ogni volta che mi domandavano qualcosa Io mettevo in bocca un pezzo di sushi E quindi facevo il gesto Che non potevo parlare perché avevo la bocca piena Ti sei strafogata di sushi quindi? Sì 900 ne ho mangiati E ho pagato un sacco di soldi Perché ognuno ha pagato il suo E alla fine avevo 2200 dollari di sushi Eh, un po' cari però Sì, perché i pesci con cui fanno il sushi In questo ristorante vengono massaggiati con la birra Ecco, vedete, siamo partiti dai giovani che non leggono più i libri E siamo finiti dai pesci massaggiati con la birra Questo è il giornalismo di sinistra Questo è il nostro giornalismo Non so dove ci siamo persi Questa sera mi riguarderò questo telegiornale Quest'edizione per capire bene dove ci siamo persi Secondo me ci siamo persi con gli snack al caviale Secondo me prima Quando ti ho dato la linea? No, no, quando è cominciato questo TG No, secondo me è andato tutto a puttane Quando abbiamo parlato del rimborso delle Hawaii E secondo te, Thomas, dove ci siamo persi? Ma, secondo me Quando ho sentito che hai nominato questo Marco Mollica E ho visto che il tuo sguardo si è perso nel voto Pure io mi sono perso Perché sinceramente Nemmeno io so chi sia Stracchini Qui ce lo stiamo domandando tutti Chi è questo Marco Mollica? Ero talmente inebriato dalle tartine al caviale E alla fine ho scoperto chi era nella festa Marco Mollica Solo quando è morto Bene, questa è la dimostrazione di come è strutturato questo TG Discorsi, temi seri che si perdono in discorsi inutili Noi ci vediamo alla prossima edizione del TG Degrado Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima